Osip Mandelstam aveva, come diceva Pierpaolo Pasolini, con il quale aveva moltissime cose in comune, due grandi passioni. La poesia, soprattutto il formalismo, e la politica, soprattutto la rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre. Della poesia amava l'estrema libertà che poteva dare. E della rivoluzione amava anche il senso di precarietà, amava vivere senza un futuro, nell'incertezza, nella ritrovata povertà della Russia di dopo la rivoluzione, della Russia non più borghese. Il problema è che già intorno al 1923, la rivoluzione è già avvenuta, gli avevano già consigliato, anzi lo avevano invitato, a non pubblicare più nulla, perché i nuovi zar della rivoluzione avevano capito che questo ragazzo amava un po' troppo la rivoluzione. Il pretesto per parlare di lui è un libro uscito da poco, del 1925, quindi già era stato avvisato una volta, si intitola Il rumore del tempo. Mandelstam poi verrà avvisato un'altra volta, dopodiché verrà arrestato una volta nel 1934 e nel 1938, tutto in modo definitivo, verrà mandato in Siberia dove troverà la morte. Tra l'altro noi conosciamo tutta la sua opera grazie alla moglie che la imparò a memoria e la trasmise, fu una bellissima storia d'amore. La cosa strana, e sempre Pasolini a dirlo, è che Mandelstam nonostante questi avvertimenti e nonostante il fatto che ormai di fatto la sua vita era in costante pericolo, non se ne andò mai dalla Russia. Si limitò a spostarsi da Pietroburgo, Mosca, Leningrado, come un Leopold Bloom qualsiasi, si lasciava vivere apparentemente senza preoccuparsene troppo. Poi scrisse in particolare una poesia contro Stalin che lo condannò definitivamente, ma in realtà venne condannato per tutta una vita, non soltanto per quello. Ad un certo punto in questo libro parla degli scrittori, della letteratura e sono parole molto attuali perché non tutti gli scrittori sono amanti della poesia e soprattutto della rivoluzione. Dice ad un certo punto Mandelstam «Gli scrittori sono una razza maleodorante che si prepara il cibo nei modi più schifosi, una razza nomade che dorme nel proprio vomito, reietta dalle città, perseguitata nelle campagne, ma che riesce ovunque a stare vicino al potere, il quale le riserva un posto nei quartieri delle prostitute, perché ovunque la letteratura assolve a una sola funzione, aiuta i superiori a tenere i soldati in stato di soggezione e i giudici a infliggere pene severe ai condannati». Grazie a tutti!